Il corso offre materie di base come anatomia, estologia e biologia, ovvero le scienze biomediche, quelle professionali, infermieristica generale e clinica, ma anche materie come quelle psicosociali, linguistiche e informatiche. Oltre alla didattica frontale, il corso prevede diverse ore di laboratori professionali, dove in totale sicurezza noi studenti possiamo esercitarci grazie all'uso di trainer, manichini e simulatori. Questo permette la formazione di una figura altamente professionale, perfettamente inserita nel contesto moderno dove vive e opera. Il corso di laurea in infermieristica vive e si sviluppa nel complesso storico di San Domenico a Cosenza, un luogo che riflette bene il carattere di questa professione, in quanto intreccio tra solidità antica e dinamismo evolutivo moderno. Il corso di laurea in infermieristica appartiene alle classi di lauree in ambito sanitario e per questo motivo l'accesso è programmato, ovvero si accede attraverso un concorso nazionale seguendo le direttive ministeriali. Il corso di laurea ha l'obiettivo di formare delle figure altamente professionali che con grande autonomia e competenza svolgono attività di assistenza ai malati, alle persone, con occhio di riguardo all'educazione sanitaria, sempre rispettando il proprio profilo professionale e il proprio codice deontologico. Il corso di laurea in infermieristica è strutturato sia in una parte teorica ma soprattutto in una parte pratica attraverso un tirocinio in ambito clinico nelle strutture territoriali. Inoltre agli studenti è offerta la possibilità di confrontarsi con realtà oltre i nostri confini nazionali attraverso mobilità internazionale come programmi Erasmus Plus e altri ancora in modo tale da immettere spessore ed elevata competenza in questa figura professionale. Il corso vuole formare delle figure altamente professionali sia nell'ambito clinico ma soprattutto nell'ambito relazionale poiché l'infermiere nella sua quotidianità svolge la propria attività professionale nel continuo relazionarsi con l'assistito. Infatti oltre all'ora di laboratorio professionale in cui potrà svolgere in piena e totale sicurezza le ore della nostra formazione il corso prevede 1800 ore di tirocinio pratico nelle strutture territoriali convenzionate con l'Università della Calabria. Il rapporto uno a uno tra tutor e studente conferisce un'adeguata formazione teorico pratica spendibile nel mondo del lavoro solo dopo aver conseguito il titolo di dottore in infermieristica. Previa l'iscrizione all'albo professionale si potrà svolgere l'attività lavorativa nelle strutture pubbliche e private nel territorio o nell'assistenza domiciliare come dipendente o libero professionista.